Ciao a tutti ragazzi, sono 9.05, sono qui per andare su Clash Royale e per aprire un fichissimo baule super magico, raga, super magico 1200 gemme e non mi ricordo qualcosa di oro comunque, vabbè perché... shop raga, ci sta ci sta eccolo allora vado e raga, vediamo pagamento riscitto ok buu baule super magico 4700 di oro mini pecca carta rara domatore di cinghiali tornado principe comune ci dovrebbe essere una epica la leggendaria secondo me non c'è però vediamo eh infatti niente leggendaria raga però tante epiche buone buonissime questa offerta è stata buona raga facciamo qualche partita farlo un po' male farlo un po' male perché ho un po' di malivore un cucciolo di draco e raga e raga e volevo dire questo è tutto raga ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao